E' l'agente McCormick che parla, è il corso un 10-31. Me ne occupo io! La chante Ops parte all'inseguimento! Devo trovare questa targa. L'esqui dentro è il più rapido. Lui saprà identificarla in un butter top. Aspetta, sono tutti... bradipi! Stai insinuando che non può essere veloce solo perché è un bradipo? Flash, Flash, il più veloce del West! Felice di vederti, amico. Felice di... vederti. Anch'io. Agente Judy Ops, polizia, come va? Sta andando tutto. Bene. Alla grande. Non ti muovere. Adesso, fai... Beh, speravo che tu potessi... Per voi. Beh, speravo che tu... Beh, speravo che potessi trovare il proprietario di una macchina perché ve li stiamo molto di fretta. Quale è il numero... 2-9-T... Di targa. 2-9-T-H-D-0-3 2 9 T H-D-0-3 H-D-0-3 D 0-3 0-3 Ehi, Flash, puoi sentire una barzelletta? No! Certo. Bene. Come la chiameresti? Una cammella con tre gobbe. Io non... Saprei... Incinta! Sì, 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 molto divertente, esilarante. Ora, per favore, potresti concentrarti su... Oh, no, 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 aspetta, aspetta! Sì. Slash. Come? La? No! Chiameresti? Una cammella con tre gobbe. Incinta? Ok, perfetto, non è divertente. Ora ti prego io... Presto! Se vi chiamo l'ora di punta, è notte! Ok, perfetto, non è divertente.